Un saluto dal Tg della Mobilità. Questa mattina in programma un accorteo studentesco da piazzale Ostiense a Viale Trastevere. Dalle 10 alle 14 circa possibili chiusure al traffico, deviazioni o limitazioni per 17 linee del trasporto pubblico, compreso il tram della linea 3. Lunedì 22 novembre invece è in programma uno sciopero di 4 ore dalle 8.30 alle 12.30 sulla ferrovia regionale Roma Lido. La protesta è indetta dal sindacato Faesa Cisal. Viaggerà regolarmente il resto della rete Atac.